Buongiorno a tutti, sono Luca Cinquemani, sono un ex studente all'Università degli Studi di Palermo e attualmente ricopro il ruolo di manager in Porsche Consulting. Mi sono laureato in Ingegneria Gestionale nel 2007, subito dopo la laurea sono entrato nel gruppo FCA in ambito Operation. Ho lavorato per FCA per circa 10 anni, ricoprendo diversi ruoli, sia a livello corporate che a livello plant. Adesso lavoro per Porsche Consulting, una società di consulenza manageriale del gruppo Porsche e mi occupo di gestire progetti per clienti italiani ed esteri che si affidano a noi per migliorare le loro aziende. Concludo augurandovi un grande in bocca al lupo per il vostro percorso accademico e professionale.